Eccolo qua, un video che io devo fare per il Rapunzel, il nostro Raponi nazionale, fa un po' freschino qua, ho aperto il balcone. Io, vabbè, ormai pensavo che fossero finiti i video presi da More Plates, More Dates o con gli stessi schemi, con la tua faccettina che ridacchia. Vedo che stai perdendo dei chili, vabbè, vuol dire che hai deciso di ridurre la grammatura, bene, io l'ho tolta completamente. Guardami, molte volte il discorso di prendere le parole dei campioni, così come sono stati presi quelli di Plates, sono stati presi quelli di Zane, che a quanto pare è Natura, The Great Chemist lo chiamavano, perché diceva che sapeva fare con gli integratori. E le cose che diceva che fino a Montot di età, quando ancora c'era un giovane Ronnie Coleman, assolutamente pieno, fino al buco del culo, superando anche l'ano, ma natural, per cui ai tempi era drug free, voleva dire natural, ma ancora adesso free, vicino a un'altra parola, vuol dire senza. Non esiste natural, drug free, ci sono queste desinenze del cazzo che si sono voluti imporre certe persone, così come Project Invictus ha identificato quattro frasi per un Carl, cioè eccentrica, concentrica, poi c'è stop sotto e stop sopra, inconcepibile però. La confusione fa in modo che dentro un polverone ognuno possa rubare il portafoglio all'altro, questa è una bella analogia. Non credere a tutte le cazzate, non passare informazioni a tutte le cazzate che credi su questo prodigio della natura, che altro non è, che è un uomo che già pesa di suo 170 kg in quella forma, per cui non penso che voglia mettere più kg, sarebbe controproducente anche per il cuore. Stavo guardando, perché bene o male un bodybuilder di 180 kg, sì, rischia tanto, ma se sei 180 kg in massa magra, rischi in un'altra maniera, perché comunque l'introito di steroidi deve essere talmente ampio che come Dallas McCartney, poi c'è chi ne ha bisogno, chi non ne ha bisogno, chi con poco fa tanto, ma in generale se c'è un grosso introito di steroidi è quello che fa la differenza. Il problema di queste persone qua è che oltre ad avere gli steroidi, hanno un introito calorico che è veramente alto, probabilmente sul serio, non come le stronzate che dice l'emme, per un ragazzo così piccolo, così basso, ecco, con una massa così irrisoria, che possono essere davvero 12-13 mila calorie, perché mancano dalla mattina, no, dalla mattina alla sera, no, ma mancano ogni volta che si siedono, mancano come se fosse l'ultimo pasto, come se fosse l'ultima cena. Per cui non so se hai mai visto, caro mio Rapunzel, tra le stronzate che dici, le morti della WWF. Stavo dicendo, non so se hai visto le morti ultimamente, ultimamente, nel senso la carrellata di morti che già sono accorsi prima di Andrei Rusimov, Andrei the Giant per te, se non lo sai, sono quasi tutti morti, dai 35, Owen Hart, fino a 40, cioè la media sono 40 anni, 40 anni, perché un gran peso, con steroidi e una dieta squilibrata, fa sciuppare il cuore che Dio la manda. Per quanto riguarda i tuoi consigli, fantastici consigli che arrivano sotto forma di schede da 20-30 euro strappate da non so quale enciclopedia, probabilmente la nonna lo sta cercando, quel libro ha detto, cazzo, ma era molto più grande prima. Io non ho mai visto un allenamento protratto da te, e non ho mai visto consigli, a parte che non siano cazzate e prese da altri libri, ma tu non stai dicendo cose, stai dando quali consigli alle persone? A parte mandatemi 30 euro, se siete in 170, qualcun altro commenta sotto, probabilmente sarai anche tu il primo che fa commenti su vai avanti così. Queste roba circense, cioè descrivere persone al limite del... possono essere divertenti fino a quello che vuoi, non c'entrano niente con il coaching e non c'entrano niente con quello che tu pensi dovrebbero fare. Anche perché, come stavo dicendo, come con Coleman e tutte le stronzate che stanno dicendo gli ex bodybuilder di una volta, che non vogliono ammettere il consumo, largo consumo, ma al limite dicono, io ho fatto tanto così, perché tutti vogliono essere prodigi della natura, non è un prodigio della natura. Dovresti vedere qualcun altro che magari pesa meno di lui e in proporzione fa più di lui, ma nessuno guarda queste cose, che sono meno eclatanti di tirar su un 500 kg di stacco. Quello non si chiama prodigio della natura, si chiama prodigio degli steroidi. Steroidi insieme a un allenamento di forza, che va poco sull'ipertrofia, anche se l'ho visto squartato, e sotto ha una massa che tu non hai neanche l'idea. Quello che fa vedere è la stessa cosa che fai tu, intrattenimento senza dare nessun tipo di informazione, perché poi la gente ne vuole sapere di più. Giustamente, le persone come me, che spiegano le cose, o ti dicono le cose come stanno togliendo Patreon, o roba del genere, ce n'è pochi. Siete tutti quanti come voi, che fanno vedere un pagliaccio che gioca con le palline, e ci descrivete sotto quanto è bello. Io mi domando, quando tirerai fuori una rubrica, o farai vedere qualcosa fatto da te? Penso mai. Aspetto comunque ancora notizie del tuo avvocato, per quanto riguarda quella querela famosa, che poi è andata a finire. Non lo so, non vi ho più sentito, mi mancate. Piccola postilla, quando restituirai i soldi alle persone che ancora mi chiamano, aspettano il turchesterone che arrivi, e quelli che invece si sono degnati di andarlo a far analizzare, per sapere che c'è dentro tutt'altro, o quelli che hanno avuto disastri per il tuo miele magico, a livello faringo, laringese, insomma un disastro, hanno pagato fior fior di soldi per i dottori. Cioè quando è che farai una cosa utile invece che sparare solo stronzate?